London Bridge is falling down, falling down, falling down, London Bridge is falling down, my fair lady! Non mi posso fidare del mio conquilino, ma tutti e due piace la roba vecchia. Ho un vecchio videoregistratore e ne è rimasto molto colpito quando si è trasferito qui. Ne ha uno anche lui, ma il mio è in condizioni migliori, quindi siamo il mio. No, abbiamo un sacco di cose in comune, come me ha delle videocassette di vecchi film, così quando mi ha chiesto, per favore, non usarle mentre non ci sono. Non ci ho fatto troppo caso, perché anche io sono così, e ho detto di non toccare le mie, di cassette. I collezionisti sono molto attenti alle loro cose, troverai un sacco di appassionati di vinili che non vogliono che tu tocchi i loro dischi. E lo stesso con i francobolli, lo stesso con le cassette. Edgar, così si chiama, è sul divano quando sto per andare a lezione. Viviamo in una casa vecchia, in una strada tranquilla. Pavimento in parquet, tre camere da letto. Nella tezza non c'è nulla se non un letto. Un armadio, un vecchio poster degli U2, avviso il muro. Non l'ho mai affittata. Troppo vecchia e piccola. Nessuno la prenderebbe. Cosa fai oggi? Chiedo appottonandomi la camicia. Dalla tv proviene un sibilo. Sta guardando un film. Non ci presto troppo attenzione. Mi faccio un paio di canne, guardo qualche stronzata. Dice ridendo mentre io esco. Quando torno da lezione, addormentato sul divano. Effetto neve e sibila sulla tv. Vi chino di fronte al videoregistratore e sto per spegnerlo quando ricordo Si gentile. Premo rewind e vado a farmi un sandwich. Edgar russa. E poi qualcosa sullo schermo cattura il mio sguardo. Per un istante appena. L'immagine di una stanza buia, malilluminata, filmato amatoriale. Un flash e poi i colori brillanti del re leone che scorrono all'indietro dietro le due freccette del rewind. Torno verso il salotto facendo attenzione a non fare troppo rumore. Non sono nemmeno sicuro del perché. Premo play. Il re leone scorre sullo schermo. Guardo alle mie spalle. Il contenitore della cassetta è aperto sul tavolino. Edgar dorme. E poi il film cambia. Con un fischio basso e un flash di neve grigia, il cartone svanisce. E al suo posto appare una stanza. Scarsamente illuminata. Piccola. Solo un letto senza materasso. Videocamera analogica. Pelicola da 8 mm. Sono seduto sul pavimento. I miei occhi incollati allo schermo. Qualche tonfo fuori campo. E poi un torso appare. E il torso è seguito da una ragazza giovane. Tenuta ferma con dello scotch. Bocca, polsi e caviglie. L'uomo torso la mette a sedere sul letto. I suoi occhi sono rossi, grandi e piange. Guardo Edgar e dorme. Guardo la tv. L'uomo torso è senza dubbio un uomo. Si capisce. Parla e pensa di riconoscere la sua voce. Hai paura? La ragazza urla. Il suono è attutito dallo scotch. L'uomo torso scompare dalla visuale. Poi riappare con un mantello. La ragazza piange ancora di più. Dovresti averne. Il mantello le accarezza dolcemente la pelle. E le piange sempre di più. La riconosco. Avevamo lezioni insieme. Io, lei ed Edgar. Non la vedo da qualche settimana. Lei continua a strillare. L'uomo torso solleva il mantello. Sbarro gli occhi dalla paura. Come lei. Che stai guardando? Spengo il registratore e mi alzo. Edgar si stropiccia gli occhi mentre si sveglia del tutto. La cassetta del re leone è aperta davanti a noi. Niente, dico. Ti sei addormentato guardando la tv? Strabuzza gli occhi assonnati e si siede. Guarda me e poi la cassetta. Già, penso sia così. Si alza. Dovrei guardare la fine prima o poi. Mi addormento sempre prima e il finale è la parte migliore. Ci fisiamo per qualche istante e poi mi passa accanto. Diretto in camera sua. Sento il clic della porta e premo di nuovo play. Sto cercando qualcosa. Qualsiasi cosa che possa scusare tutto questo. È finto. È un film. È uno scherzo. È qualcosa che qualcuno ha trovato per strada. Non può essere. Ma poi lo vedo. Mentre la telecamera trema per il colpo del martello, vedo per un istante un poster vecchio, mezzo staccato degli U2 sul muro. È la terza stanza di casa mia. Sento dei rumori dalla stanza di Edgar. Mi dirigo verso l'ultima porta oltre il divano, verso la terza stanza. Apro la porta e premo l'interruttore. Ma niente. La luce non funziona. Uno sguardo basta per vedere che è la stessa stanza del nastro. Entro lentamente. Mi guardo attorno. E poi apro l'armadio sulla destra. I miei occhi si soffermano sulla telecamera da 8 mm, che se ne sta tranquillamente sul treppiede. La prendo e lo osservo. Il mio respiro diventa più veloce e corto. Edgar, puoi venire qui. Che c'è, amico? Edgar è già alla porta. Mi guarda. Non so da quanto era lì. Che ci fai con quella telecamera? Gli stoggo il mio sguardo dalla telecamera e lo rivolgo verso di lui. Non sta sorridendo. Mi avvicino. Ti avevo detto che non mi piace quando altre persone toccano le mie cassette. Sono io a dirlo. Chiudo la porta alle sue spalle. Agrotta la fronte. In mano ho già il fazzoletto imbevuto di cloroformio. Tengo tutto pronto nell'armadio. Adesso in mezzo alla bella e alla bestia. Subito dopo la scena dove l'ultimo petalo cade. La sua registrazione non è lunga come le altre. Non mi sono divertito a farlo. Ma dovevo farlo. Gli avevo detto. Gli avevo detto di non guardare le mie cassette. E lui l'ha fatto. Visto? Non potevo fidare. Gli avevo detto di non guardare le mie